. Alba Parietti delusa dalle donne, lo sfogo alle Iene Show . . Le Iene Show, Alba Parietti sconcertata dai commenti sui social. . Come ogni settimana, Mary Sarnataro si occupa di far incontrare un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo con suo hater, una persona che occupa il suo tempo libero insultando i VIP sul social. . Questa settimana, alle Iene Show, è toccato ad Alba Parietti, famosa conduttrice televisiva. . . Prima di essere faccia a faccia con il suo hater, linviata dallo smoking nero ha sottoposto allattenzione della showgirl alcuni dei commenti che compaiono su suoi profili social. . . La maggior parte degli utenti di sesso maschile, offende Alba Parietti con frasi a sfondo sensuale, dandole della poco buono. . Le donne, invece, lattaccano sul lato estetico, facendo leva sui ritocchini fatti dalla conduttrice anni fa. . La Parietti ha svelato allinviata delle Iene Show di essere profondamente delusa dai commenti che riceve dalle donne sui social. . . È triste vedere una donna che invece di sostenere qualcuno che appartiene alla sua stessa categoria, la insulta offendendola perché questa ha subito un ritocco estetico. . La nota conduttrice, quando si è ritrovata faccia a faccia con il suo hater, gli ha confidato di aver querelato tutti gli utenti del web che spendono il loro tempo a insultarla sui social. . Un ottimo insegnamento all'uomo che la offende continuamente in rete, ogni azione ha una conseguenza. . Alba Parietti amareggiata, lo sfogo alle Iene. . Prima di essere protagonista delle Iene, Alba Parietti ha criticato Alfonso Signorini per il duro scontro avvenuto con Giulia Delellis durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip, il reality show dedicato ai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. . 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